Il segretario generale dell'UGL Paolo Capone è oggi all'Aquila per il congresso territoriale sul piatto temi locali che riguardano l'occupazione, l'economia e il lavoro al centro. Occasione per iniziare un lavoro mirato a costruire un nuovo modello sindacale. A preoccupare sono i dati snocciolati da Banca d'Italia sull'occupazione che nel 2022 in Abruzzo risulta indebolita con un calo dei lavoratori autonomi. Sicuramente l'inflazione e il caro energia hanno influito e hanno determinato una riduzione del reddito reale rispetto a valori nazionali. Noi proponiamo per l'Abruzzo così come per il resto d'Europa di recuperare intanto la capacità industriale di produzione primaria nell'agricoltura. L'Abruzzo ha la possibilità di sfruttare il turismo come asset importante e quindi le condizioni per migliorare ci sono tutte. I segnali ci sono anche. Adesso dobbiamo vedere se siamo in grado, se il Paese è in grado di supportare tutto questo con opere per esempio del PNRR. Per l'UGL inoltre è fondamentale una riforma complessiva della pubblica amministrazione per garantire investimenti e un corretto uso, come dice il segretario delle risorse del PNRR. C'è però ad oggi una buona interlocuzione con il governo. Di certo è diventato un confronto tra parti sociali e parti politiche. Prima ci confrontavamo soltanto con i tecnici e i tecnici notoriamente, come diceva anche Draghi, lui diceva sostanzialmente di avere un cuore, i tecnici il cuore non ce l'hanno. Fanno calcoli di natura ragionieristica. Con la politica si può ragionare. Questo governo ha aperto tanti tavoli di confronto e lo sta facendo con grande onestà e anche sta prendendo delle nostre proposte e le sta portando avanti. Siamo soddisfatti.